La circolazione a scala Europa è condizionata da un vortice polare molto forte che costringe la corrente a getto e le perturbazioni ad essa associate a scorrere a nord dell'arco alpino. In questo contesto la nostra regione è interessata da un moderato flusso di correnti occidentali in quota ma senza fenomeni significativi. In Toscana martedì 5 marzo cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso nella prima parte della giornata con possibilità di locali deboli piogge sulle zone settentrionali, in particolare sui rilievi temporane e schiarite dal pomeriggio. Venti moderati occidentali con rinforzi in arcipelago a nord dell'Elba, parziale attenuazione in serata. Mari da molto mossi a mossi a nord dell'Elba, mossi a sud dell'isola. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Cielo da coperto a poco nuvoloso nell'arco della giornata sul territorio provinciale. A Lucca e nella Piana, temperatura minima 7, massima 16 gradi. A Castelnove, zone montane, minima 4, massima 16. A Viareggiosi litorale, minima 8, massima 16 gradi.